Tutti abbiamo avuto a che fare con il termine ferrarezza, nel senso che è una parola direi decisamente inconsueta e quindi c'era anche una slide successiva nella quale appunto io sono andata a cercare la definizione di ferrarezza e ho trovato questo estratto dal catastatico, come sapete appunto la data è lì sopra, siamo all'inizio del XVII secolo e parlando della Valcamonica D'Alezza dice appunto il secondo, il primo era proprio l'allevamento eccetera il secondo è la ferrarezza e questa si esercita assai per tutta questa valle e quasi tutti i denari che vengono in essa sono per occasione della ferrarezza e cessando questa gli abitanti converrebbero a disabitare o morire di fame non avendo altro d'onde possano cavare denari per comprare biave, vino ed altre cose necessarie al viver loro e questo traffico viene esercitato come si dirà in vari paesi quindi breve definizione della ferrarezza Beh, mi pare che la definizione del D'Alezza e di questo Ispettore Veneto all'inizio del Seicento sia molto chiara e comprensibile da parte di tutti tutto il mondo della produzione del ferro si identifica con questo termine la ferrarezza che comprende un po' coloro che lavorano ai forni fusori, coloro che lavorano nel settore del miniere quindi l'estrazione del minerale di ferro, del commercio del ferro eccetera è molto importante capire che le valli bresciane e bergamasche sono al centro nel 500 ma anche un po' prima di una grande rivoluzione io nel titolo lì parlo di quattro rivoluzioni ma nel frattempo ne ho aggiunto un'altra che è forse la più importante quando si studia la storia e si parla di economia del 4-500 si accenna sempre al fatto che gli italiani hanno insegnato che cosa sono le banche al nord Europa le hanno aperte, le hanno gestite e hanno insegnato molti aspetti importanti dell'arte sia pittorica che architettonica non si dice mai, e gli storici di questo si sono dimenticati che i bresciani e i bergamaschi hanno insegnato a tutta Europa come si lavora il ferro cioè l'età del ferro sappiamo che è cominciata nel 500 avanti Cristo quindi si lavorava già e in altri paesi è cominciata anche nel 1000 avanti Cristo chi ha cominciato a lavorare il ferro ha cominciato molto tempo prima di noi ma in Europa in genere l'età del ferro si va a partire nel 500 avanti Cristo ma fino al 1400 circa il ferro si lavora in bassi fuochi in fuochi, quindi in forni molto piccoli che fanno produzioni molto limitate questo testo è un testo fondamentale è uscito dopo il mio I signori del ferro è datato non solo perché è uscito nell'88 era la mia tesi di laurea ma anche perché molti studi sono stati fatti dopo e questo è fondamentale e sono gli atti di un convegno fatto in Valle Camonica che dimostra come i bresciani e i bergamaschi e anche due camuni abbiamo come nomi che sono arrivati fino a noi naturalmente molti più di due ma un Gavazzeni e un Tombonari sono menzionati perché sono andati chiamati da Cosimo dei Medici a impiantare i forni fusori in Toscana ma li aveva impiantati anche nel Pistoiese, nella Garfagnana sono arrivati fino in Sicilia a costruire forni fusori e sono arrivati poi nel 600 in Polonia chiamati dal vescovo di Cracovia e questi erano i caccia bergamaschi della Val Seriana e invece i bergamaschi della Val Brembana sono andati sempre nel 600 in Francia a costruire forni fusori e a farle funzionare cercando di mantenere segreti i sistemi di funzionamento in modo che periodicamente partivano andavano ad attivarli e rimanevano per circa sei mesi due tornate di funzionamento dei forni rimanevano presso coloro che li avevano chiamati chiaramente i luoghi dove c'erano miniele di ferro in Toscana vengono vengono chiamati soprattutto nella zona vicino all'isola d'Elba dove costruiscono il forno di Campiglia e molti altri che non sto che non sto ad elencare e li fanno funzionare e li fanno funzionare questa è la grande rivoluzione ed è il passaggio dal basso forno cioè da forni piccolissimi all'alto forno già usato nella Bresciana perché era una tecnologia già matura nella Bresciana e nel bergamasco e la diffondono a livello europeo la diffondono a livello internazionale ricordiamoci che anche andare in Toscana allora significava passare per diversi stati perché l'Italia come stato unitario non esisteva era ben al di là da venire benissimo hai accennato hai accennato giustamente alla presenza di questi primi alti forni io sempre nel Catastatico forse lo può mostrare Mariella c'è appunto l'elenco che viene fatto dei forni diciamo locali sei d'accordo con questo elenco dice Malonno Paisco loveno cemmo cemmo c'è scritto forno cerveno e poi sotto bisogne e lì vedi l'immagine di quello di Malonno magari ci puoi spiegare un pochino come funzionava questo alto forno ci sono immagini anche dopo e anche il motivo per cui giustamente tu lo consideri una situazione proto-industriale un tipo di produzione proto-industriale è una produzione proto-industriale perché è già una produzione a ciclo continuo questi forni ha senso farli funzionare se lavorano per almeno per almeno una tornata una campagna del forno si chiamava che dura circa tre mesi ma di solito almeno due campagne le facevano perché perché ci vogliono 18-20 giorni per scaldare il forno quindi per quasi una ventina per due settimane praticamente il forno non può produrre non può funzionare e quindi voi capite che consumare molto carburante molta legna in quel caso non il carbone poi spiego come funziona molta legna per portarlo ad una certa temperatura per poi riempirlo di minerale e di carbone di legna significa poi farlo funzionare per un bel po' di tempo altrimenti sarebbe uno spreco assoluto allora questi questi forni erano di cui noi abbiamo un unico esemplare rimasto in piedi che è quello di Malonno che fortunatamente è stato salvato e tenuto in piedi era una torre alta circa sei metri una torre quadrata veniva caricato dall'alto e in mezzo nel centro aveva una come una botte di refrattario che è dove avveniva la fusione in fondo dove c'è l'apertura che si vede molto bene c'era il crogiolo il crogiolo era tutto in terra in terra cotta veniva caricato dall'alto a strati con uno strato di minerale a uno strato di carbone questi forni sono legati alla tecnologia del carbone di legna tecnologia che poi vedremo meglio in seguito dura fino alla fine dell'ottocento fino alla fine dell'ottocento i forni fusori funzionano tutti a carbone di legna anche nei paesi che conoscevano il carbon fossile allora il carbone veniva prodotto dai carbonai che lavoravano nei boschi durante il periodo estivo facendo il poiat che è una fornace che riesce a bruciare la legna in modo anaerobico cioè consumando pochissimo ossigeno in modo che si crei la braccia e il carbone ma non diventi cenere perché se diventa cenere chiaramente diventa uno spreco di fatti il lavoro del carbonaio era un lavoro molto importante e la fornace che produceva il carbone doveva essere osservata a 24 ore su 24 perché se partiva l'incendio tutto il lavoro del carbonaio andava in fumo e qui è proprio il caso di dirlo andava in fumo e in cenere la combustione doveva venire in modo lento oltre al carbone che aveva un valore diverso a seconda del del tipo di legno usato quando ho parlato con i ragazzi la classe di Paola li ho invitati a prendere in mano dei pezzi di di legna che a casa se a casa loro hanno il caminetto per soppesare un pezzo più o meno della stessa grandezza di di abete e un pezzo di di quercia e vedere la differenza di peso si capisce da subito che il peso specifico della quercia è un peso specifico molto più alto rispetto all'abete il peso specifico ci dà la quantità di calorie che può sprigionare un legno piuttosto che un altro il carbone elimina le parti di acqua che ci sono nel legno le parti più volatili e concentra molto nel carbone che si crea il valore energetico è chiaro che lo deve conservare perché altrimenti produrre il carbone sarebbe un'assurdità venivano appunto inseriti fino al fino al crogiolo che sta in fondo strati di carbone e strati di minerale le quantità non sono sempre chiarissime ma a volte si dice addirittura in alcuni libri scritti nell'antichità parlo del 5-600 quando abbiamo diversi esperti che si interessano della fusione che descrivono un po' il procedimento c'è circa 50% altri dicono che prevale il quantitativo di minerale rispetto ma dipende anche dal carbone che si usa questo una volta attizzato il fuoco nel crogiolo si tappa con della creta e il maestro del forno deve essere talmente abile da intuire perché non c'erano i termometri che potevano dire se la temperatura era arrivata a 1500 gradi e se quindi la fusione era avvenuta doveva intuire dalla colorazione che prendeva la creta in fondo nel crogiolo e anche delle pietre perché il calore sprigionato dal forno era un calore molto alto anche se c'era una coibentazione geniale perché tra la botte di refrattari e le pietre c'era era inserita della cenere e dei residui di precedenti fusioni in modo da fare in modo da trattenere il calore anche perché quel calore avrebbe spaccato le pietre perché la pietra sapete è abbastanza sensibile anche se venivano al calore anche se venivano usate pietre particolarmente adatte per questo ecco e quindi veniva intuito quando il ferro era fuso veniva fatto perforato con una picca una picca fatta apposta a punta che faceva sia da perforatore sia da tappo se si accorgeva il maestro del forno che la fusione non era ancora pronta lasciava la picca dentro il buco che aveva fatto in modo da tapparlo e aspettare ancora qualche minuto o qualche mezz'ora per arrivare alla fusione un particolare non so se vuoi che lo aggiunga adesso o se oggetto di domande successive un particolare molto importante è il fatto che per raggiungere la temperatura bisogna iniettare aria bisogna iniettare ossigeno infatti c'è l'immagine c'è l'immagine dopo no è interessante questa anche credo per la portata proprio della produzione come dicevi tu è interessante questa produzione a ciclo continuo che produce però solo il minerale giusto? e quindi poi bisogna dicevo appunto che quando l'altra volta ne parlavamo io ero rimasta colpita proprio da questa produzione a ciclo continuo che quindi interessa anche poi l'economia perché naturalmente il minerale è così prodotto va utilizzato non il minerale il ferro fuso il minerale è la materia prima il minerale non c'è più hai ragione vedi allora scendiamo pure qua io ho scomodato perché appunto tu mi avevi dato questa indicazione possiamo andare all'immagine successiva ho scomodato addirittura Leonardo Da Vinci non so se riesci si 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 vede benissimo e spero che vedano anche il particolare anche il barbone di Leonardo che non ho salutato e che saluto adesso e sono molto contento della partecipazione di molti amici e di molte persone che vogliono capire qualche cosa di questa grande storia dell'economia bresciana ma non è una economia come dicevo prima di tipo solamente provinciale ma è una rivoluzione europea allora i primi i primi forni che funzionavano sia sia da noi nelle valli bresciane sia quelli che hanno impiantato in Toscana i nostri fornattieri bresciani e bergamaschi producevano aria compressa con dei grossi mantici i mantici erano azionati in modo asincrono uno si apriva e uno si chiudeva in modo da insufflare aria in continuazione e questo movimento dei mantici era automatico era prodotto con la caduta dell'acqua che muoveva un albero che vedete che muoveva appunto apriva e chiudeva i due i due mantici questa tecnologia è durata per per molto tempo e molti scrittori per esempio il nostro rosa dice che c'è stato un salto tecnologico solo nel settecento in realtà il nostro ascoltatore ma esperto marchesi che ho visto prima che era presente ha scoperto dei documenti per cui ha trovato che nel nel Bresciano in Val Sabbia in Val Trompia e penso anche in Valle Camonica perché poi comunicavano tra di loro i ferrattieri la tromba eolica che è il salto scusami è l'immagine successiva sì che è il salto tecnologico dell'epoca l'avrete vista a Bienno perché la tromba eolica non è nient'altro che un palo bucato nel quale entra acqua l'acqua entrando assorbe aria perché ci sono delle perforazioni trasversali nel tronco inclinate verso il basso trascina quindi dell'aria che è arrivata in fondo non ha la possibilità di uscire se non in quel tubetto che vedete che poi finisce con una una punta con che è quella che porta praticamente dentro il forno e l'aria l'acqua se ne va ci sono delle camere vedete che la raccolgono dei vasi comunicanti e invece l'aria sale in alto e esce dal tubo che vedete rotondo che c'è in alto questo sistema molto semplice ha aveva un'efficienza di gran lunga superiore a quello dei mantici inoltre oltre ad avere un'efficienza perché continuamente soffiava aria senza nessuna interruzione era anche di una durata enorme voi sapete che un mantici che lavora sei mesi significa che poi si logora alla fine si taglia il cuoio pur essendo cuoio molto resistente lavorando ininterrottamente per così tanto tempo si taglia e qui invece un sistema così semplice porta ad una rivoluzione nella produzione di aria compressa che poi si diffonde non solo nei forni fusori ma anche nelle fucine ma questo ci dice sia per quanto riguarda i mantici sia per quanto riguarda la tromba eolica o tina dell'ora come la chiamano a bienno questo ci dice che i forni vanno costruiti vicino a dei corsi d'acqua di solito io faccio la domanda quando parlo a dei ragazzi ma anche a delle persone che non si sono mai interessate di questo ma come mai c'era l'acqua perché facevano i forni vicino a dei corsi d'acqua e la maggior parte mi rispondono perché poi il ferro va immerso nell'acqua perché è un procedimento naturalmente perché è comune il ferro caldo va immerso nell'acqua perché acquisisce delle caratteristiche ma in realtà l'acqua serviva soprattutto per produrre l'aria complessa benissimo quindi in Valcamonica c'era tutto quello che serviva c'erano i boschi per il carbone c'erano i giacimenti per il minerale c'era appunto questa tecnica raffinata nel corso dei secoli per la creazione dell'alto forno accennavi prima ai vari forni che ci sono in Valcamonica ti vuoi fermare su qualcuno in particolare? Ma allora molto importante è il forno di Cerveno perché è uno dei primi documentati e poi la documentazione che riguarda il forno di Cerveno è interessante perché è frutto di una decisione della vicinia vale a dire dell'amministrazione che allora era l'amministrazione diffusa in tutti i comuni della valle non esisteva il comune come quello che abbiamo adesso che è un comune che nasce in periodo napoleonico ma la gestione dei beni pubblici e dei beni comuni era in mano alle vicinie altri forni invece sono di origine signorile per esempio i forni di Pisogne sono di possesso del Vescovo e l'iniziativa è stata presa proprio dal Vescovo sapete che ai tempi si interessavano direttamente di economia i monasteri i Vescovi eccetera e Pisogne c'è ancora la torre del Vescovo che sta a significare questo su questo ci sono dei documenti che mi ha passato Ernesto Fenaroli che ha studiato questa parte riguardante i forni di Pisogne e le miniere che colgo l'occasione per ringraziare se all'ascolto ma poi venendo su ci sono i forni della Val di Scalve la Val di Scalve ha continuato a lavorare nei suoi forni purtroppo tutti distrutti purtroppo tutti distrutti anche l'ultimo che era rimasto in piedi è stato azzerato abbastanza di recente io l'ho fotografato per la mia tesi di laurea e pochi anni dopo l'anno come hanno distrutto i forni del Dezzo io dico sciagulatamente perché era archeologia industriale da conservare e da mostrare a coloro che vogliono capire qualche cosa di quello che è stato il nostro passato la Val di Scalve è ricchissima di miniere di ferro aveva il ferro migliore di tutta la nostra zona di tutte le nostre zone tanto è vero che ha continuato a estrarre ferro fino agli anni oltre gli anni 60 del secolo scorso mentre le altre miniere della nostra zona hanno chiuso tutto tutti a fine 800 venendo su il forno importante è il forno di Cemmo di cui rimane una piccola parte il frontale del forno con una data 1810 c'è scritto rinoato nel 1810 ma è un forno sempre di fattura cinquecentesca di cui non conosciamo esattamente la data di nascita ma è un forno anche quello antico dove hanno dove arrivano i carati i carati o caratti erano le azioni praticamente di un fondo di un forno alcuni signori importanti alla Varca Monica come provenienti anche da Lovere come i capoferri eccetera perché perché il forno a Cemmo perché sopra Cemmo guardandola con carena dal basso verso destra c'è la zona delle miniere e il forno di Cerveno a cui accennavo prima è nato proprio perché sul territorio di Cerveno ci sono miniere molto importanti e molto ricche nella zona di Erbigno e altre zone verso il passo dei Campelli per chi è pratico di quella zona che sono lo stesso filone che c'è in in Valle di Schilpario che c'è nel Comune di Schilpario più su zona di miniere e quindi di forni fusori ce n'erano ben due Paisco chiedetevi perché in una zona così imperme lì c'erano più di mille abitanti fino a pochi anni fa e adesso sono ridotti a 200 o forse meno di 200 perché offriva questi due forni e le miniere offrivano lavoro a un numero molto alto di persone e non solo assorbivano anche manodopera che veniva dalla tedeschia dall'Alemagna come si diceva allora tanto è vero che ci sono due cognomi tedeschi ancora oggi a Paisco i Metelperger per esempio e un altro che adesso non mi viene in mente salendo poi c'è Malonno Malonno l'abbiamo visto è l'unico forno che è rimasto in piedi ma c'erano appena dietro il forno c'era la miniera di Volpera proprio a due passi e tutta la zona di Malonno sopra Malonno nella parte che va verso Decla verso Nascio verso Moscio eccetera eccetera e tutta zona tutta zona di miniere poi in Alta Valle ce n'erano altri due nati però molto tardi quello di Corteno e di cui ho trovato le tracce e quello di Stadolina che è durato ben poco perché esattamente nel posto dove è venuta l'alluvione l'estate scorsa che ha rovinato tutto il conoide di fronte a Stadolina nella valle chiamata Valar c'era il forno che è stato distrutto da un'alluvione a fine Settecento e quindi non è più stato rimesso in funzione questi erano i forni esistenti tutti più o meno della stessa fattura tutti alti come quello di Malonno con le stesse capacità con lo stesso tipo di funzionamento ecco io adesso sono sul tuo libro pagina 167 dove c'è quell'elenco molto interessante delle persone che lavorano nel forno in questo caso si parla di quello dicemmo e c'è il maestro del forno il lavorante del forno il braschino il minestradore la zonta il ricevitore spartitore del forno il carbonaio il macile vuoi raccontare un po' cosa fanno tutte queste persone prima abbiamo parlato del maestro del forno l'ho già detto è quello che sovrintendeva sia la costruzione del forno e alla riparazione il forno aveva bisogno di riparazioni molto frequenti molto frequenti quasi sempre dopo ogni campagna il forno andava riparato tanto è vero che era costruito in modo anche di non doverlo completamente disfare per poterlo riparare ma per poter intervenire senza dover distruggere tutto il manufatto poi il maestro il maestro era quello che univa il carbone di legna al minerale nei quantitativi che erano i quantitativi richiesti secondo del tipo di carbone che si usava e del tipo di minerale anche perché anche il minerale non è tutto uguale c'è del minerale più ricco del minerale più povero in genere il nostro minerale non era un minerale ricchissimo e quindi bisognava comunque calibrare la proporzione tra carbone e minerale in modo da sapere quali quantitativi miscelare il brastino era quello che si occupava appunto della brasca cioè dell'alimentazione del fuoco in modo che ci fosse la continuità della combustione poi interessante per esempio il macil perché si ritrova anche nel linguaggio anzi è molto più diffuso nel linguaggio dei pastori anzi e c'è da c'è da notare questo che mentre negli scritti che abbiamo pubblicato sui pastori il termine negli scritti antichi il termine macil non lo troviamo mai lo troviamo solamente poi nel dizionario nei primi dizionari della seconda metà dell'ottocento qui viene invece viene invece utilizzato ed è ed era il ragazzotto che stava imparando era il ragazzo giovane che imparava che serviva gli altri lavoranti non so se nell'elenco c'è anche Zonta Zonta è diventato un cognome poi ed era l'aggiunta era l'operaio in aggiunta Zonta nel dialetto significa aggiungere e ha un doppio significato perché noi diciamo anche Zuntai che non è la stessa cosa comunque è l'aggiunta e c'era anche per esempio lo strusino chi era lo strusino lo strusino era quello che trascinava strusà nel mio dialetto non so se nel vostro ci usa la stessa espressione strusà significa passare in mezzo a un prato lasciando l'orma e essendo se si è individuati dal proprietario del prato si prendono anche delle bastonate perché si deturpa il fieno che era preziosissimo fino a quando appunto gli allievamenti erano il sostentamento più importante lo strusino era quello che trascinando il minerale o il carbone seguendo appunto dei percorsi strusava cioè lasciava una traccia sia nelle parti di pascolo che attraversava sia sulle strade che erano tracciate lavorava soprattutto in periodi invernali perché è più facile chiaramente sul terreno gelato trasportare anche pesi molto grossi il problema diventava frenare durante il periodo invernale il trasporto di questi minerali perché davano una spinta notevole ecco più o meno sono questi c'è anche il pestaloppe il pestaloppe ecco è importante perché dalla fusione esce la parte diciamo liquida e escono anche in superficie perché sono meno pesanti della parte liquida escono anche le loppe le loppe sono diciamo del materiale che poteva essere considerato materiale di scarto ma sono comunque è sempre ferro ma è ferro meno pregiato e le loppe vanno lavorate tutto il ferro tutta la ghise che veniva rotta ai nostri forni andava forgiata perché altrimenti il ferro non era di grande qualità la forgiatura permetteva di arrivare ad una consistenza dei manufatti molto forte e le loppe venivano venivano lavorate il primo forno che venivano subito frantumate e pestate dal pestaloppe appunto il primo forno che è un forno nuovo nato all'inizio dell'ottocento e che dà il nome ad una località forno da Lione non è perché c'era l'Union Carbaide ma perché c'era il forno costruito dai Simoncini il forno il forno da Lione era un forno dove avevano automatizzato attraverso le condutture d'acqua il pestaggio delle loppe quindi gli altri lo facevano invece a mano in tutti gli altri forni sì e fra l'altro in questo forno la retribuzione era quasi tutta in natura per tutti questi lavoratori qui c'è una differenza enorme tra i forni gestiti da Bresciani e Bergamaschini in Toscana e i forni in Valcamonica in genere il maestro del forno veniva pagato non in natura ma con soldi era un personaggio molto considerato e quindi non bastava appunto la retribuzione in natura ma perché andavano volentieri trasferiti in Toscana perché facevano dei contratti molto molto vantaggiosi e esigevano di essere pagati in moneta e non in natura anche perché poi trasportarsi dalla Toscana con i mezzi di allora delle retribuzioni in natura voi capite che non era non era neanche molto facile quindi era preferibile pagare in moneta in più cercavano di essere pagati molto 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 meglio di quanto erano pagati in Valcamonica per questo che affrontavano questi viaggi e riuscivano a ottenere dei risultati molto molto positivi tu prima accennavi alle quattro rivoluzioni non so se ce le vuoi enumerare a quali siamo arrivati adesso allora siamo già alle 21 e 11 e quindi le numero molto molto velocemente allora la produzione attraverso i forni che abbiamo visto il forno di Malonno e gli altri suoi confratelli dura fino alla fine dell'ottocento però a metà dell'ottocento c'è una delle prime grandi rivoluzioni che è quella innescata da Andrea Gregorini Gregorini è figlio di un ferrattiere di Vezza che possiede già all'inizio dell'ottocento due grosse fucine sono due fucine talmente grosse che producono più delle fucine che noi siamo abituati a vedere a conoscere che sono quelle di Bienno le due fucine del Gregorini sono fucine veramente di grande di grande produzione e i Gregorini hanno un vantaggio su tutti coloro che si erano compromessi con il regime napoleonico coloro che si erano compromessi con il regime napoleonico producendo per l'armé bombe e materiale e armi varie che servivano all'armata napoleonica i Laini per esempio di Angolo i Comensoli di Bienno il Franzoni il Franzoni dell'Alta Valle però non è un Franzoni di di Borno il Franzoni finiscono sull'astrico perché poi quando Napoleone perde le sue battaglie a Water viene sconfitto non paga non paga le commesse che ha ordinato invece Gregorini è antinapoleonico come eravamo antinapoleonici un po' in tutta l'Alta Valle e troviamo il vecchio Gregorini che non è questo ma si chiamava anche lui Giovanni si distingueva dagli altri Gregorini perché aveva il soprannome Marengoni si vede che venivano una famiglia di falegnani il vecchio Gregorini aveva cappeggiato assieme ad altri questa è una scoperta recentissima pubblicata nel libro di del mio amico Mauro Berruti sulla rivolta del 1809 nel 1809 i tirolesi trentini dalla Val di Sole cappeggiati da un Bezzi un medico di Malè scendono dal tonale e trovano buona accoglienza negli abitanti di Ponte di Legno in un altro medico che è studiato con lui che è un Favallini e a buona accoglienza a vezza da parte di Gregorini che si associa ai comandanti della rivolta ed è l'unico che ha un cavallo e segue la rivolta fino a Edolo con il suo cavallo quindi antinapoleonico non compromesso con il regime il figlio il figlio che ha già da giovane girato l'Europa e ha conosciuto alcuni paesi che nel frattempo erano diventati più avanzati di noi decide di fondare la prima vera industria siderurgica italiana che a metà ottocento ha già mille e cinquecento operai e che si specializza nella produzione legata alle ferrovie si produce le ruote dei treni ancora adesso le produce la grande intuizione del Gregorini le grandi intuizioni di Gregorini che rappresentano proprio una grande rivoluzione i forni sono ancora del modello tradizionale ma lui comincia a usare per esempio la torba e quindi siccome i boschi sono stati depauperati dalla produzione di carbone per fornire tutti i forni e si doveva importare carbone e legna da altre valli dove c'era meno siderurgia che da noi comincia a intuire che si può usare la torba e questo è già una e più concentra i forni che prima erano sparsi su un grande territorio tutti all'over in una ex fabbrica della Repubblica Veneta che produceva precedentemente falci e questa concentrazione dei forni questa che suscita tra l'altro molte ribellioni questo possesso man mano delle varie concessioni mineralie in tutta la valle camonica che porta appunto quelli di Paisco a ribellarsi anche anche coloro che lavorano nel settore del ferro di Pisogne però dà una produttività che naturalmente prima i forni che esistevano sparsi su tutta la valle non aveva e quindi una competitività tanto è vero che i suoi prodotti vengono portati nella grande esposizione di Parigi e ricevono dei premi come prodotti all'avanguardia nel settore è interessante notare che quest'uomo e la biblioteca che è stata studiata da Simone Signoroli lo mette bene in luce conosceva già leggeva libri già in due o tre lingue in francese in inglese aveva una biblioteca ricca di libri specialisti sulla produzione di ferro cioè aveva una conoscenza che era a livello europeo su di lui viene scritto un libro nel 1869 da Michele Lessona che riporta i personaggi più importanti italiani i personaggi nominati sono quattro per quanto riguarda la Lombardia uno di questi è Alessandro Manzoni l'altro è Giovanni Andrea Gregorini per dirvi l'importanza che rivestiva in Lombardia ma a livello nazionale e potremmo dire anche a livello internazionale perché è uno sperimentatore ed è uno che riesce a inserirsi in un mercato che è il mercato più florido dell'Ottocento non c'è ancora il motore a scoppio c'è quindi la necessità di produrre per quanto riguarda i treni e i treni in gran parte hanno bisogno di ferro per le rotaie per le ruote per le componenti fondamentali dei loro motori a vapore questa è la grande rivoluzione del Gregorini che è importante da conoscere che tutti i ragazzi che frequentano le nostre scuole soprattutto le scuole superiori dovrebbero conoscere come figura e per quello che ha fatto l'altra rivoluzione è indotta a fine Ottocento da un ingegnere napoletano che però lavora in Valle Camonica lavora ad Arfo ed è l'intuizione del forno fusorio elettrico che supera il problema della mancanza di carbon fossile allora noi negli anni Ottanta dell'Ottocento vediamo chiudere tutti i forni perché perché gli inglesi cominciano a trovare la soluzione per riuscire a produrre il ferro con il carbon fossile senza che la fusione diventi una fusione di scarso valore trovano il sistema di depurare il carbon fossile di togliere quindi componenti che erano componenti deleterie per avere un buon ferro e essendo produttori di carbon fossile tutti i paesi nordici la Germania la Rura la Francia del Nord il Belgio e l'Inghilterra riescono a produrre attraverso i forni a carbon fossile riescono a produrre a prezzi che i forni che funzionano a carbone di legna non riescono assolutamente ad ottenere tanto è vero che in quel periodo i nostri produttori i nostri industriali chiedono protezionismo e la sinistra storica riesce a dare riesce a dare riesce a dare una risposta protezionistica per salvare le industrie le industrie siderurgico incipienti ma la vera svolta arriva quando sta sano riesce a trovare la soluzione di fare funzionare un forno attraverso l'elettricità siccome la Valcamonica a fine ottocento fa le prime sperimentazioni di produzione di energia idroelettrica nascono le varie centraline per l'illuminazione dei paesi ho ben presente quella di Edolo ma ce ne sono tante ma nascono anche le prime grosse centrali alla fine dell'ottocento questa energia può essere sfruttata per far produrre per produrre il ferro e necessita però della graffite perché voi sapete che il carbone anche il carbone il carbone di legna forniva l'energia ma forniva anche materia prima vale a dire il carbonio perché nella fusione del ferro non c'è mai il ferro puro ma c'è sempre una percentuale di carbone è necessario che ci sia una percentuale di carbonio scusate per riuscire a risolvere quindi il problema della fusione elettrica bisognava comunque dare la possibilità di questa diciamo unione chimica tra ferro e carbonio ecco che si inventano gli elettrodi di graffite perché nasce in Valle Camonica la produzione all'avanguardia di elettrodi di graffite con anche le conseguenze dal punto di vista ecologico che conosciamo bene ma perché si localizza a Forno da Lione l'Union Carbide che precedentemente era una fabbrica italiana successivamente in periodo fascista era diventata fabbrica tedesca e poi immediatamente dopo la guerra diventa fabbrica americana perché il monopolio degli elettrodi di graffite significa controllo di tutta la produzione mondiale basata sui forni elettrici e convivono dalla fine dell'Ottocento in avanti due forme di produzione coloro che hanno il carbon fossile usano il carbon fossile coloro che riescono ad avere produzioni di energia idroelettrica a costi abbastanza competitivi usano invece l'energia idroelettrica e quindi questa è l'altra rivoluzione la terza la terza o la quarta rivoluzione se i numeri forse li ho persi perché 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 dà la possibilità alla valle camonica di rimanere sul mercato quando i vecchi forni ormai hanno chiuso hanno chiuso tutti ed è quella che richiama per esempio da Voltri dalla Liguria dal Genovese i Tassara i Tassara vengono per quello in un altro settore non quello siderurgico la produzione di energie idroelettriche quella che chiama l'Occese non certo per produrre per produrre ferro ma nel settore del cotone questo quindi questo ingegnere napoletano che vive ad Arfo e fa i suoi primi esperimenti ad Arfo il forno peraltro è visibile presso è stato messo non a caso nel museo della scienza e della tecnica di Milano perché è il primo forno elettrico primo forno fusorio elettrico al mondo quindi è un primato notevole dal punto di vista tecnologico questa è la grande rivoluzione che permette alla siderurgia della della valle Camoni che poi man mano la siderurgia italiana di stare ancora in piedi quindi c'è anche la capacità di rinnovarsi dal punto di vista tecnologico perché appunto era necessario cambiare il il sistema di energia appunto con il carbon fossile ma c'è anche un'ulteriore innovazione nel senso che la Valcamonica tu accennavi il bresciano in generale accennavi prima ancora oggi sono in grado di competere a livello europeo o mondiale per quanto riguarda la produzione ancora sì c'è un passaggio però allora il che è legato anche all'invenzione ed è un'altra un'altra rivoluzione importante perché diventano famosi i tondinari bresciani proprio per il forno elettrico perché nel forno elettrico è preferibile usare più che il minerale il rottame il rottame nei paesi noi sappiamo che la civiltà industriale è la civiltà della tour Eiffel cioè è una civiltà del ferro il ferro però è anche scarto non è solo non è solo materiale che si usa diventa anche una fonte di rottamazione che soprattutto in paesi dove c'è ricchezza di minerale e ricchezza di carbon fossile non viene molto valorizzato tanto è vero che l'intuizione dei tondinari bresciani qual è? è quella di importare soprattutto dai paesi dell'est a prezzi molto bassi il il rottame il rottame treni treni interi di rottame che arrivano nel Bresciano e che si coniugano con la rivoluzione nell'edilizia la rivoluzione urbanistica quando noi abbiamo la rivoluzione industriale che a noi da noi arriva abbastanza tardi non da noi in Valcamonica in Italia il grande sviluppo industriale del secondo dopoguerra non è che prima non esistessero le industrie la fiete dall'inizio del secolo e tante altre industrie certo che esistevano ma il boom noi l'abbiamo negli anni 60 negli anni 60 c'è anche il fenomeno della emigrazione dalle valli le valli si spopolano e vanno verso le grandi città o all'estero o all'estero in questa fase in questa fase in questa fase i tondinari riescono a impiantare industrie in in Valcamonica in Val Trompia in Valcamonica in Val Sabbia in tutto il Bresciano che usando il rottame a prezzi molto bassi riescono a vendere tondino in tutto il mondo e riescono a dare occupazione a una una moltitudine di persone il tondino va in crisi le produzioni se noi guardiamo la grande fabbrica della scianica di Sellero abbiamo un'idea di cos'è successo ma non è l'unica non è l'unica questa fabbrica lunga più di un chilometro a un certo punto chiude la fabbrica dei bellicini chiude perché perché è il periodo nel quale per varie ragioni il tondino non ha più non è più un grande interesse economico sia perché siccome è una produzione con una scarsa qualità dal punto di vista tecnologico imparano velocemente anche paesi che prima non erano industrializzati a produrlo e con una mano d'opera a basso costo come avevano paesi africani l'India e altri paesi extra europei riescono a produrre il tondino a prezzi competitivi ma non solo i grandi fenomeni di urbanizzazione in Europa cominciano a diminuire e quindi c'è meno richiesta di cemento armato perché il tondino è legato alla grande rivoluzione urbanistica e quindi al cemento armato non è che il cemento armato non si faccia più i ponti eccetera eccetera si costruiscono così ma molte altre strutture si costruiscono con il cemento armato però la grande richiesta viene a mancare a quel punto a quel punto subentra l'ultima rivoluzione alla quale accenno brevemente ma che è importantissima perché è una rivoluzione anche questa di livello internazionale mondiale ed è un ritorno ai magli un ritorno ai magli nel senso che è un ritorno alla forgiatura con la differenza che le forge che sono concentrate nella prada di Cividate in Valcamonica per restare da noi con la con la forgiatura si hanno c'è un salto tecnologico pazzesco tanto è vero che le forge non hanno subito crisi anche nel periodo di grossa crisi della siderurgia italiana perché perché sono in grado di produrre dei manufatti inimitabili i cinesi ci hanno provato non sono riusciti a livelli di qualità che i nostri produttori riescono a raggiungere in che consiste questa forgiatura è una forgiatura fatta con delle presse che raggiungono le 13.000 addirittura le 15.000 tonnellate delle presse quindi che riescono a produrre in forma artigianale cioè troviamo un ritorno da questo punto di vista all'artigianato nel senso che ogni pezzo è unico ogni pezzo è unico gli ordini che arrivano sono da industrie soprattutto che lavorano in campo energetico in campo nucleare in in campi dove ci vuole della ci vogliono delle macchine nell'eolico per esempio dove ci vogliono delle macchine che hanno una resistenza dove l'acciaio ha una resistenza che ha livelli altissimi allora pressare questo ferro è caldo naturalmente e forgiarlo in modo controllato elettronicamente quindi c'è una tecnologia dal punto di vista elettronico e quindi all'avanguardia secondo i dettami dell'informatica attuale nello stesso tempo ci sono queste macchine diavolesche che riescono a realizzare pressioni tali da non lasciare neanche un minimo di spazi interni tra le varie molecole del ferro e dell'acciaio in modo da raggiungere delle performance di questi pezzi che sono eccezionali e che hanno spopolato a livello mondiale la Prada di Cividate oggi ha mi pare quattro aziende che lavorano sono le Forge Monchieri la Forge Mamè le Forge Morandini e le Forge Fedriga mi pare che ci siano queste quattro e hanno e hanno delle commesse a livello mondiale perché riescono a rispondere a richieste che sono di altissimo livello e a soddisfare clienti che sono esigentissimi sui quali non si può sbagliare neanche di un per i quali non si può sbagliare neanche di un micron allora chi lavora in questo settore è un artigiano di altissimo livello sono ingegneri in genere sono ingegneri nostri i camuni che hanno assorbito dalla grande tradizione della forgiatura non è un caso che diversi di questi vengano da Bienno e quindi hanno assorbito diciamo con il latte materno la capacità dell'uso della lavorazione del ferro e hanno naturalmente perfezionato questa abilità e l'han trasformata per le esigenze moderne per le esigenze moderne e questa è la rivoluzione in atto e non sappiamo il futuro quale sarà ma per ora questa rivoluzione è una rivoluzione che regge insomma siamo tornati a dei meravigliosi maestri del ferro in cui appunto le capacità vanno ben al di là di quelle diciamo della siderologia tradizionale è un po' un peccato però questa cosa delle miniere perché viene meno quella figura sulla quale si è soffermato brevemente del ricercatore minerario a me è rimasto impresso il sacerdote Don Cattaneo eh sì perché allora beh so che cronologicamente siamo andati oltre anche come dico siamo già arrivati al 21 di settembre no guardavo se almeno due parole su allora i ricercatori minerari molte volte sono preti per quale motivo perché sono fra le poche persone colte che esistevano allora nei paesi e il prete che si interessa di più di ricerca mineraria è questo prete di Malonno Don Cattaneo che fa moltissime scoperte di diversi tipi di minerali e poi li segnala lui non è che li coltivi diciamo lui direttamente ma le sue scoperte vengono segnalate a coloro che si interessano delle concessioni minerarie e quindi poi vengono aperte delle miniere su sua segnalazione e vengono sfruttati i minerali che lui segnala per riuscire a scoprire un minerale naturalmente bisogna conoscere molto bene gli affioramenti e sapere dove possono essere sapere come si caratterizzano perché è come se uno va a cercare i funghi porcini come a me non ne trova neanche uno perché non sa i luoghi non sente il profumo del bosco dove ci sono eccetera e per conoscere dove ci sono gli affioramenti dei minerali bisogna naturalmente avere una competenza specifica che riguarda i minerali e sono delle figure molto interessanti ma volevo anche sottolineare e me l'hai fatto venire in mente pensando appunto alle persone colte che sempre sono alla base di ogni di ogni sviluppo economico non c'è mai alla base dello sviluppo economico il semplice praticantato il praticantato non esiste senza le idee ci sono sempre le idee prima e l'uomo è uomo perché ha le idee non perché usa le mani poi usa anche le mani chiaramente deve essere capace di rubare le mani una cosa che hanno sottolineato per esempio già quando hanno conosciuto i ferattieri bresciani e bergamaschi in in Toscana i locali meravigliati hanno sottolineato un aspetto importante che mi piace riproporre dice dicevano ma questi qui sanno scrivere e sanno disegnare cioè non erano analfabeti non si fa il maestro del forno se si è analfabetico questo è importante da sottolineare quindi vuol dire che i rudimenti della scrittura del disegno tanto è vero che sono arrivati fino a noi proprio dalla Toscana dei disegni degli strumenti usati dai ferattieri che lavoravano attorno al forno dei disegni di tutti gli strumenti fatti dai nostri ferattieri laggiù e anche se sono conservati in archivi toscani la particolarità di questi disegni è che hanno il nome vicino dello strumento e il nome è in dialetto bresciano bresciano bergamasco che poi se non è zuppa è pambagnato perché sapete che i due dialetti sono molto vicini e sono abbiamo abbiamo la stessa danda da una parte dall'altra per cui ci riconoscono subito sei bresciano sei bergamasco appena attraverso i poti dicono subito così io chiuderei qui e vediamo se ci sono infatti ho già visto prima una mano alzata ma non pensavo di dover essere io ecco che arriva Mariella allora mentre si parlava durante la conferenza ci sono state delle riflessioni delle indicazioni anche nella chat ad esempio Marco Zulberti che dice botte dell'ora a caino scimego poi chiede o riflette il forno è sempre Marco Zulberti il forno pensavo fosse rifatto ogni stagione perché si rischiava la perforazione per cui Giancarlo rispetto a questo e poi sempre Marco Zulberti dice carbon coca che deve essere il carbone cioè quando parla del carbone se il carbon fossile niente ma no la perforazione o comunque il logoramento del forno si rischiava sempre c'è un documento che riporto nel libro I signori del ferro molto interessante su capo di ponte su Cemmo l'imbarassamento del forno perché usano questa parola dialettale imbarassato significa indigesto nel dialetto camuno l'imbarassato vuol dire che non ha digerito che sullo stomaco è rimasto il cibo e quindi non riesce a connettere perché vabbè il forno si imbarassava a volte cioè non digeriva il contenuto dipendeva da varie motivazioni dal fatto che il ferro che il minerale non fosse particolarmente buono dipendeva dall'inesperienza del manestradore che non metteva carbone a sufficienza dipendeva da varie cause quando il forno si imbarassava vuol dire che si creava una struttura stagna di ferro al centro del forno e andava demolito almeno fino a raggiungere la parte dove bisognava picchiare fortemente su queste parti che si erano fossilizzate lì per riuscire a liberare il forno il forno subiva dei logoramenti notevoli e quindi questo diciamo era abbastanza no non l'imbarassamento ma era abbastanza era abbastanza frequente che il forno avesse bisogno di riparazioni ma la campagna che durava circa sei mesi in genere da ottobre fino a giugno era dovuta soprattutto al grande rifornimento di minerale e di legna che bisognava di carbone che bisognava avere per poter far funzionare il forno perché quando il forno veniva attivato bisognava avere le scorte perché la produzione durasse almeno per due campagne altrimenti come dicevo prima la produzione non era conveniente voi capite che con i mezzi che c'erano allora e con il fatto che si lavorava nelle miniere soprattutto in in periodi liberi dalle occupazioni agricole il rosa dice che su 40.000 abitanti che c'erano in valle camonica c'erano 10.000 addetti alla ferrarezza voi capite che 10.000 è una percentuale di rivoluzione industriale quindi 10.000 vuol dire che erano dei contadini in gran parte non erano degli addetti alla ferrarezza per 365 giorni all'anno ma erano dei contadini che lavoravano in miniera o lavoravano a fare gli strusini nella parte dell'anno nella quale erano meno assorbiti dai lavori dei campi e preparavano quindi in questo periodo il minerale e invece d'estate il carbone e quindi c'era anche questo fatto i carbonai i trentini su questo hanno molto da insegnarci perché i carbonai a bondone sopra il lago di idro e nella zona trentina hanno lavorato per molto tempo molto più che da noi molto più che da noi e c'era un famiglia intera che si trasferivano nel bosco chiaramente non d'inverno e non in mezzo alla neve per produrre il carbone allora le condizioni sia atmosferiche sia di lavoro di questa di tutta questa massa di gente non permettevano un ciclo continuo per tutto l'anno bisognava accumulare minerale sufficiente carbone sufficiente perché la produzione durasse almeno sei mesi poi se il forno si logorava e bisognava rifarlo quello è un altro è un altro discorso ma diciamo in genere anche se il forno non subiva grossi danni durante la fusione dopo sei mesi veniva spento e bisognava attendere per una produzione successiva che si accumulasse che si accumulasse il materiale energetico e il materiale fusorio il minerale per poter per poter procedere infatti un elemento che emerge proprio dal tuo libro è proprio questo intreccio fra la vita della Val Camonica la vita dei pastori i prodotti il formaggio giovane e il formaggio vecchio e tutta la parte della siderurgia quindi la ferrarezza davvero risulta uno degli elementi per capire la storia della valle proprio un filo rosso che aveva una rilevanza veramente notevole soprattutto come dicevi tu prima perché coinvolgeva tantissimi numericamente tantissime persone anche se non a tempo pieno certo sì beh i pastori certamente non nella produzione riguardante la ferrarezza contribuivano solo con i loro prodotti ma non non potevano essere impiegati perché perché i pastori nostri facevano una transumanza durante il periodo invernale erano in pianura padana durante il periodo onestivo erano in alpeggio quindi non potevano invece il contadino il contadino il contadino di Ono San Pietro di Cerveno di Losine per esempio attorno alla Concarena o lavorava nell'ebidiero lavorava a trasportare il minerale o a fare il carbone durante i periodi più liberi dall'attività agricola oppure faceva produrre le calchiere vale a dire le fornaci di produzione della calce attorno alla Concarena anche noi abbiamo le Dolomiti lo dico Mario Turri che lui è molto legato chiaramente giustamente al Trentino e pensano di averle solo loro le Dolomiti le Dolomiti le abbiamo anche noi no scherzo e abbiamo questa bellissima montagna calcarea che appunto produce la calce ma la calce quando veniva prodotta? veniva prodotta nei periodi diciamo morti per quanto riguarda o comunque meno attivi per quanto riguarda l'attività contadina perché in montagna da sempre da sempre non c'è mai un unico mestiere non puoi mai in montagna vivere con un solo mestiere devi sempre averne più di uno anche i maestri di sci attuali quando è finita la stagione invernale devono riciclarsi e fare qualche cosa d'altro ma la montagna è così quasi per tutti quasi per tutti grazie allora nel frattempo no allora nel frattempo Marco Zulberti dice ha scritto questa annotazione Cimego è terra di Fabri e Miniere sopra Ponte Caffaro in Trentino per chi non lo sapesse e Caino è la zona millenaria del Fabri Poi volevo ricordare che abbiamo avuto l'iniziativa nel 2013 abbiamo fatto in collaborazione con l'organizzazione del Bene del Bello abbiamo visitato le forze vetriga le forze vetriga quando gli uomini fanno la differenza è stato molto interessante come visita e anche adesso mentre ne parlava Giancarlo mi sono ricordata di come comunque c'è una competenza una qualità di altissimo livello dove lavorano e dove fanno le forgiature poi volevo ricordare anche due volumi che abbiamo pubblicato uno la forgiatura in Vallecamonica di Francesca Calvetti che è stato pubblicato nel 2016 per cui per chi fosse interessato l'abbiamo a disposizione e poi che nel 2019 col premio della borsa di studio Mario Nobili è stata giudicata a un ragazzo Giovanni Ghezza con la tesi di laurea l'evoluzione del settore siderurgico in Vallecamonica nel corso del novecento è stata premiata come dicevano nel 2019 vedo che ci sono tanti complimenti da parte del pubblico se ci fossero ancora delle domande ben volentieri se no salutiamo salutiamo vediamo appuntamento per il prossimo incontro Mariella allora il prossimo incontro già che aspettiamo nel frattempo che aspettiamo qualcuno se vuole fare ancora una domanda allora un attimo che la preparo settimana prossima sarà l'occasione di conoscere le due studenti che hanno avuto le due studentesse sono due ragazze che hanno avuto che sono state giudicatari del premio Mario Nobili per l'anno 2020 soltanto che col covid abbiamo dovuto spostare la giudicazione e purtroppo la facciamo online settimana prossima non possiamo aspettare oltre e avremo Federica Foppoli e Gloria Rosina Zampatti con due tesi di laurea una sulle vicine e una su Gadda e poi è giovedì prossimo giovedì 25 febbraio invece avremo questa videoconferenza i 100 anni del PC perché quest'anno a febbraio appena c'è stata la ricorrenza dei 100 anni del PC la storia dell'eredità politica e culturale avremo Claudio Bragaglio presidente della direzione regionale Partito Democratico con Michele Coticottini di Graffiti questa è le prossime due conferenze io a questo punto